Ragazzi siamo tornati, io sono Papi Allora ragazzi, oggi siamo qui per la prima volta con FIFA 23 Ma faccio andare oggi perché non posso vedere poi sul foglio che sta scritto Su FIFA 23, giocare a FIFA 23 perché, ora ve lo spiego Ora inizieremo la nostra Coppa Italia Noi giocaremo nel Napoli Ecco il tabellone, allora partiamo dai playoff Allora, Verona-Torino 1-4 Vabbè, Verona-Torino 1-4 Poi, Benevento-Dinese 2-1 Salernitana-Venezia 2-3 Palermo-Cagliari 1-2 E Como-Pisa 3-0 Hai messo pronto con l'altro joystick Allora, gli ottavi Ora, perché ragazzi dobbiamo giocare Napoli-Benevento Benevento è andato in Serie C Non ci sta su FIFA 24 Quindi non lo gioco per forza su FIFA 23 Lazio-Cagliari 2-1 Milan-Parma 2-3 2-2 Milan-Giafuri 2-2 Alessandro-Dipioli Inter-Como 5-1 Bologna-Fiorentina 5-2 Questa è una sfida bella Roma-Atalanta 3-3 E 4-3 per l'Atalanta ai rigori Juve-Venezia 4-0 E Torino-Monza 2-1 Ok Partiamo? Partiamo, sì Allora Come si fa la coppa? Non mi ricordo Che facciamo fino al di... No vabbè, facciamo la cartina normale Questo è il mio versetto No, questo è il mio Va bene, è differente Navoli contro il Benevento Aspetta, cosa ti chiede? Ah, questo è il... E che differenza va? Eh, vabbè Allora, va FIVA 23 Vai Gessione squadra principiante Perché? Perché devo fare l'allenamento Dilettante Anche ti scasseremo la faccia Pioggia, no C'è, vabbè, pioggia Fa niente, una partita Formazioni Io ce la vedo bene come sta Perfetto Con lo già in patina Eh, toglie solo a Kim Cosa è andata? E' andata non ce l'abbiamo Mette la guancina Cosa? Bancina, Kim Eh no, toglie la guancina Non ce l'abbiamo proprio Non metterà neanche a Elmas Cosa è andata Mettiamo... Chi dobbia mettere? L'ostica Al posto di Lozano Belesichia Gaetano, Gaetano, Gaetano Gaetano Al posto di Don Belè Deme Ci sono da tutti quanti, insomma ma c'è quasi non c'è solo nei tutti quanti soltanto zerbino ci sta e forse zedatica vabbè basta guarda che mi è brutta degli schi non potremmo insieme lui è un gesto della camara di Lorenzo Maretto vai vabbè panchina non la dico però non ti schiacciare sul foglio, non schiacciare sul foglio, vai ok Napoli per evento calcio tu puoi fare pure lo skin per la copertina, non puoi farciare no non saltare, ma è un derby, un derby del sud, no ma è un derby campano, che è un derby del sud? vabbè su due scuole del sud sono poche le squadre che stanno a sud, vabbè più un derby campano il derby di Napoli no perchè sono due provincianti diversi, basta si comincia primo possesso per il benevento non so come farlo con la missione di bel avversario oh oh io che sono il blè? si tu sei il blè oh mi vuoi da segnare? no no guarda ti metti in mezzo ma sei sicuro che sono il mio blè? si sei giù Napolitano Napolitano BAM! siiii ora a zero sono sei minuti dopo appena sette minuti Napoli è già in vantaggio ma dovrebbe avere il benevento? non so perchè c'è la bianca dovrebbe avere il benevento rosso vabbè l'ho messa io lo so ma scarsa veramente ma dove? nooo ti puoi sbagliare buona azione tutta in verticale finalizzata vabbè non c'è una segnale contro il bel avversario perché non riesco a scappare una palla? oh di partenza è il giallo rossa che finisce subito accelera in mezzo e tira in mezzo madonna madonna che gol incredibile c'era fuori gioco mannaccia sarebbe stato un gol a dir poco ridicolo sempre un gol eh anche se hanno un altro ma in mezzo? no vero? si però l'ha passata in Repia Rachmani chi è quello che stava in mezzo? chi è quello che teneva la palla che la voleva mettere in mezzo? vai vai buona noo passa ehi vabbè ma che fai? ma lei per me io non te lo dà io tu mi devi dare la palla va va ma gioca bene sto bene siamo sbagliando qua bene siamo sbagliando tutti i passaggi dentro qua vai Davide Improta non si chiama Davide non lo so schiattarella devi schiattare schiattarella non ci credo non ci credo non c'è manco se ho messo 3 minuti dopo lo vediamo dal video ma dopo lo vediamo dal video si hai messo 3 minuti visto io di partenza del Benevento e poi sono tributo a tempo non sono tributo in totale perciò dicevo che dura di più infatti qua dai minuti in totale è troppo poco ma che ho fatto? ma posso andare indietro? stiamo giocando malissimo contro una squadra che non serve proprio ho fatto il contrasto ho spremuto triangolo e ce l'ho dato guarda non ce l'ha dato madonna ma se le coraggia sei rotta che arbitra ha venduto? ma pure su 23 non c'è il logo del Napoli che? pure su 23 non c'è il logo del Napoli ma non c'è proprio c'è questo cavalluccio mi pare che fino a 22 cioè vogliamo fare qualche sostituzione ma direi di no ma direi di no eh meretta ne ho proprio giocato eh ma non avevamo tutti in porto questi qua e li abbiamo dominati devo solo essere un poco piccinici davanti alla porta ad Alex che parla a volo? nooo per fare gli scemi abbiamo rischiato tacco del Benevento non si ho mai visto un tacco del Benevento penso ho visto proprio poca roba guarda io me ne vado in porta io me ne vado in porta io me ne vado in porta e scarico non sbagliare nooo mi dico io ho tirato che posso fare? vuoi entrare più in porta ok oh entra Ciano ha messo Ciano entra con l'altra stava così il corner mmm l'ha messo proprio bene questo corner il nostro il nostro infatti l'ho visto bene l'ho messo bene questo corner l'ho messo bene guarda guarda io l'altro l'ho visto battere bene l'ho visto per prendere dovevo prendere il quadrato posso sbagliare il tasto vai in porta zambo vai in porta passa in mezzo ti ho dato la palla a te vai e tua che sta succedendo? non lo so c'è stato un serie di batti a ribatti la palla girava così a vuoto Piotro tira tira siiii sul primo palo Piotro 2 a 0 contro il bene e bene ti va anche uscire ci voleva questo collega per darci un po' di sicurezza affrontano io non so come si va affrontando un altro stadio 3 a 0 bene e bene ma chi ce l'hai? non lo so sbagliato ma hai capito aiutare i difensori l'ho proprio passata ma se te le collega ci vede bene Osimè no resa dai che era così bella tu hai dai ma io ci vieni in mezzo ma chi ce l'hai? che schifo di cross devo mettermi davanti a lui eh poi la devi tagliare chi è il portiere del bene e vento? non lo so strega eh strega no non è passata bene scarica la botta io tiro no te ne voglio la palla eh non ho capito hai sbagliato a premere perché hai detto io tiro? è perché ce l'avevo io un attimo e poi l'ho perso ah io questi li so battere bene solo questi ah chiama il giocatore nooo ti ha bisogno che tiravo guarda non lo stavo tirando lo stavo passando eccola la tua vai Arun scarico no Arun presa ecco ma ci vuoi stiamo facendo umiliare dal benevento come? si e sono tre è vero non ci ho pensato dopo non fa niente e sono tre dai ottima partita questo 3 a 0 da molto morale da molto morale da molto morale no 3 a 1 benevento no 1 a 3 benevento fuori gioco no qua sono stato io interligente che sono salite hai visto che l'ho messo in fuori gioco l'agumina 88 c'è tempo è uscito qualitano? qualitano? è fortunato qualitano fratello eh vabbè che sono sette minuti Ozyman vai non sbagliare ci sto io sto qua e vabbè e sto qua finita finita già? mh è durata proprio poco il recupero solo due minuti infatti ragazzi è stata una bella partita io direi possiamo scattare una bella foto per una foto con Piotra no 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 vediamo qua questa era bella per le spalle così così no 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 guarda guarda così questa fa così scattiamo questa qui aspetta che vuole da male ok ragazzi se il video vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale e commentate che ci piacciono molti i vostri commenti andiamo a mettere un amo libero 23 adesso aggiorniamo quello che è il foglio con tutte le partite accendiamo la luce così si vedano vi raccomando iscrivetevi al nostro canale e supportateci ragazzi abbiamo bisogno di voi per far crescere il canale guardate abbiamo messo Napoli Benevento 3 a 0 ok aspettate dobbiamo giocare contro la Lazio all'Olimpico quindi il prossimo incontro sarà Lazio o Napoli all'Olimpico di Roma stiamo vedendo in frattempo gli highlights bello questo gol sul primo parato no questa è una parata parata di Provedele non è Provedele Provedele è Lazio allora i quarti di finale saranno Lazio-Napoli Parma-Inter Bologna-Atalanta-Juventus-Torino derby ok se il video vi è piaciuto un bel like iscrivetevi al canale sempre 096 ciao a tutti da Papi vabbè parma-Inter non aspetta parma-Inter derby del nostro buon Natale derby del nostro mezzo sto volando la velocità non sono Napoli niente vabbè ciao ciao a tutti ciao